L'obiettivo principale resta la sicurezza e la percezione che si ha di essa. Il prefetto di Arezzo, Clemente Dinuzzo, lo aveva detto chiaramente fin dalla conferenza di presentazione e attraverso una serie di incontri finalizzati alla conoscenza del territorio si sta facendo un'idea. Intanto, su richiesta della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno, Clemente Dinuzzo ha convocato il tavolo sulla sicurezza insieme al questore, ai primi cittadini, alle forze dell'ordine e al portavoce delle categorie economiche produttive, si svolgerà giovedì 7 novembre alle 10 e 30 nella Sala Grande di Palazzo d'Arnolfo. Nell'incontro del 4 ottobre scorso della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno a Retino, al centro di geotecnologie, con i rappresentanti delle categorie economiche produttive del Valdarno, era stato affrontato il tema della sicurezza nel territorio ed era emersa tanta preoccupazione in seguito ai troppi fatti di cronaca che si erano verificati nell'ultimo periodo a danno di cittadini e imprese. Come si era impegnata a fare la presidente della conferenza, ha quindi richiesto un incontro con prefettura e questura in Valdarno. Massima attenzione da parte della prefettura anche alle problematiche del mondo artigiano nelle diverse vallate a retine e disponibilità a sostenere le iniziative che si riterrà opportuno intraprendere per il sostegno dell'intero comparto. È quanto assicurato dal prefetto al termine degli incontri di lunedì sera, con le sigle che rappresentano settare le mani in 4 p.m.